Allora, ragazzi, ti piace il new computer 3.16? No, mi incaci tu Ragazzi, non capisce lei, non capisce Intendeva tipo come content creator Scusate ragazzi, perdonatela, perdonatela Lei è incosciente, lei non conosce Perdonatela Io conosco di questo mondo te Sì E quelli che fanno i trucchi Basta Le vloggers o quelle che fanno i trucchi E io sono uno di quelli che fanno i giochi Da oggi ragazzi, chiamatemi Emerald, quello che fa i giochi Da oggi ragazzi per lei, io sarò Emerald, quello che fa i giochi Abbiamo capito